per una volta osserviamo con interesse e piacere un'iniziativa di una casa costruttrice volta a favore dei giovani non con vaghe promesse ma con una concreta opportunità di lavoro seppure part time ed il guadagno smart angels è una nuova iniziativa mai successa nel mondo dell'automobile stiamo ricercando 500 giovani nel territorio romano nelle università romane e questi 500 ragazzi se ci aiuteranno a vendere le smart potranno guadagnare fino a 2500 euro 500 euro a smart e quindi pagarsi eventualmente le spese se sono studenti fuori sede o comunque entrare nel mondo del lavoro dalla porta principale dalla porta di smart smart a roma la città più popolata dalle piccole city car del gruppo daimler bands offre un numero importante di studenti e neolaureati la possibilità di guadagnare un po di quattrini e visto il momento ci sembra effettivamente importante è un ringraziamento di smart ai giovani perché i giovani sono stati proprio i primi a sposare lo stile di vita la funzionalità della smart e poi roma perché roma è la smart city per eccellenza smart ci ha abituato a iniziative innovative nel momento in cui la benzina è arrivata a 2 euro al litro abbiamo compreso il carburante nel costo dell'auto l'assicurazione civile recentemente adesso il tema è il lavoro ecco vogliamo dare un'opportunità ai giovani quindi accompagneranno gli ultimi mesi di vita della smartina i giovani romani come smart angels con uno sconto molto importante che potranno offrire ai loro contatti e ai loro amici e che quindi potranno anche loro giovarsi poi dei 500 euro smart angels è un'idea che si lega al mondo dei ragazzi tra i più sensibili fra l'altro il fascino di questa sbarazzina city car come era prevedibile questa iniziativa ha ottenuto un notevole successo fra le nuove delle studentesche della capitale in quattro settimane abbiamo incontrato circa 1500-2000 ragazzi abbiamo ricevuto addirittura 6500 candidature in totale le selezioni sono avvenute presso il nostro smart center che è anche qui alle mie spalle e abbiamo selezionato 500 ragazzi nessun titolo di studio, studenti universitari o neolaureati in cerca di lavoro e questa è l'innovazione di smart non cerchiamo esperienze lavorative, non cerchiamo di studio solo una caratteristica, essere smart come la city car del nostro gruppo non cerchiamo di studio